Ben trovati a questo sesto video tutorial per la presentazione della domanda delle gradatorie d'istituto di terza fascia ATA, triennio 2024-2027. Ricordiamo che con questa domanda ci si può inserire nelle gradatorie d'istituto di 30 scuole a scelta dei candidati in modo tale che la prima scuola scelta sia quella capofila, ovvero quella che poi tratterà la domanda e quindi valuterà le certificazioni inserite in domanda, i profili sono i profili nuovi, quelli definiti dal nuovo contratto collettivo nazionale 2019-2021. Dunque si parte dal profilo di assistente amministrativo, anzi cogliamo l'occasione per vedere con questo tutorial quale tipo di profili si hanno di assistente amministrativo, di assistente tecnico, cuoco, operatori dei servizi agrari, collaboratore scolastico, guardarobiere, infermiere e operatore scolastico. Qui ci sono le possibili scelte da inserire attraverso queste menu a tendina. Si fa modifica scelta e per esempio assistente amministrativo se è un nuovo inserimento si fa inserimento, se non si vuole fare l'operazione si scrive nessuna operazione, oppure inserimento. Chiaramente se si trattano di aggiornamenti o conferme ci saranno pure le azioni di conferma e aggiornamento. L'assistente tecnico, ecco il cuoco la stessa cosa, l'operatore dei servizi agrari la stessa cosa, per esempio se abbiamo una laurea in scienze infermieristiche che è il titolo per entrare come infermiere possiamo fare questo inserimento. Sull'operatore scolastico l'inserimento l'ha per adesso nell'ordinanza, nel decreto ministeriale il titolo per poter entrare come operatore scolastico e la qualifica diciamo del professionale triennale, una qualifica, un attestato di qualifico, proprio il diploma di professionale triennale, andiamo a vedere andando avanti sull'operatore scolastico questa possibilità su azioni disponibili, facendo modifica, vediamo che il titolo di accesso può essere fatto con attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali o con il diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze, oppure senza titolo di studio attualmente richiesto, titolo previgente ordinamento che sarebbe questa situazione, dunque per lo più sono questi due titoli al momento disponibili anche se ci sono richieste di inserire pure il titolo di diploma quinquennale, ma per adesso questo non si è sostanziato in nessuna effettiva procedura del sistema. Andiamo avanti e vediamo come inserire al sistema anche i titoli di preferenza e le altre di creazioni. Nei titoli di preferenza si inserisce per esempio il titolo di preferenza che potrebbe essere più diffuso, potrebbe essere aver prestato lo debole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso e dunque magari se qualcuno ha un periodo di insegnamento nella scuola o un periodo di profilo da collaboratore scolastico di supplenza. Poi quello dei figli a carico per esempio si clicca qui e si mettono il numero dei figli a carico e poi ci sarebbe anche che abbastanza diffuso quello dell'invalidità civile o essere mutilato civile. Ecco per esempio dicendo qual è l'ente che ha rilasciato l'invalidità, la data dell'invalidità e il numero dell'atto dell'invalidità. Ecco questi sono diciamo le preferenze più usuari ma ce ne sono anche altre come quello di atleta che ha intrattenuto rapporti di lavoro sportivi con gruppi sportivi militari e dunque aver fatto per esempio parte di gruppi sportivi militari come i gruppi della finanza o i gruppi dei carabinieri e dei corpi civili dello Stato è una preferenza che si può diciamo dichiarare. E così ci sono anche altri titoli di preferenza che potrete leggere e vedere se sono diciamo di vostra pertinenza. Poi facendo inserisci viene inserito il titolo di preferenza come d'altronde obbligatoria vedete l'asterisco oltre la scelta della serie che è un'altra espressione obbligatoria c'è le altre dichiarazioni che vi ricordiamo di essere cittadino italiano e poi di avere un'età compresa fra i 18 e i 66 dunque superiore alla maggior età ma inferiore ai 67 anni all'1 settembre 2024, di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza, per i maschi di essere nel seguente posizione nei confronti dell'obbligo di leva milite assolto oppure di essere iscritto nelle liste elettorali della provincia di nel mio caso Reggio Calabria, del comune di Reggio Calabria. Poi ancora di non essere stato distribuito, dispensato dall'impiego presso la pubblica amministrazione, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, di non essere interdetto, di non trovarsi temporaneamente inabilitato o interdetto per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione, di non aver riportato condanne penali, oppure se le avete riportate di aver riportato quale condanna penale con scritto la data del provvedimento e l'autorità che ha emesso il provvedimento, oppure di non aver procedimenti penali e pendenti, oppure di averne e dunque bisognerà dire che tipo di provvedimento, la data del provvedimento e chi ha emesso il provvedimento, di non essere un dipendente dello Stato, di avere idoneità fisica per lo svolgimento della funzione per cui si fa la domanda, di autorizzare il trattamento dei dati personali, sia per il dirigente scolastico sia per l'amministrazione. Poi per quanto riguarda la lingua slovena, diciamo, non va solo sulle province di lingua slovena, dunque parliamo del Friuli, Venezia e Giulia. Altre dichiarazioni, se si vogliono fare, se si ha lo spazio per dichiarazione dell'interessato, si fa inserisci e anche queste altre dichiarazioni sono inserite. Dunque adesso la domanda è pronta per essere anche inoltrata. Vedete, poi c'è questa attenzione, è necessario correggere i seguenti errori per poter inoltrare la domanda, per il profilo assistente tecnico è necessario inserire almeno un titolo di accesso ai laboratori. Era, diciamo, dunque la domanda, in questo caso non può essere inoltrata, perché noi nella preparazione della domanda non avevamo compilato tutta la parte riguardante l'assistente tecnico. Vedete, c'era questa parte obbligatoria che andava definita, che nella prova non è stata definita. Comunque lo può essere tranquillamente con facili passaggi. Benissimo, seguiteci nei nostri canali social, Facebook, perché manderemo dirette riferite proprio al modello di presentazione della domanda per le gradatori di terza fascia ATA, gradatori di istituto terza fascia ATA, che riguardano qualche milione di aspiranti. Arrivederci e alla prossima. Grazie a tutti.